la chiesa prosegue per otto giorni in ora della risurrezione la gioia di celebrare la nascita sulla terra del nostro unico Dio e Salvatore fatto uomo come noi, Gesù Cristo che è l'oggetto primo e principale di tutta la nostra speranza oggi tra l'altro la festa di San Giovanni Evangelista un altro grande cantore della virtù teologale che stiamo affrontando adesso in questo momento e su cui questa sera faremo uno step forse conclusivo o forse ancora progressivo vedremo un po' dove ci porta il Signore questa virtù avremo ormai capito che è una virtù meravigliosa bellissima perché è una virtù fortemente unitiva ci fa spuntare le ali ci fa liberare dalla terra al cielo quindi ci fa vivere con il corpo certamente sulla terra ma con il cuore con il pensiero con l'anima già in cielo non certo perché viviamo come dei mezzi come dire alienati o disadattati o persone veramente che non ci sono né con la testa né con altro ma avendo il timone fisso l'obiettivo fisso e poi avremo già compreso che chi è radicato nella speranza è assolutamente più stabile di una roccia incrollabile penso che in questo momento storico in questo contesto in questa congiuntura che stiamo vivendo riscoprire l'importanza e soprattutto alimentare la speranza far vivere noi la speranza sia quanto di più importante ci possiamo regalare teniamo presente che come tutte quante le virtù tuttavia non ci sono virtù teologali se non c'è vita di grazie ecco perché la vita di grazia io come sacerdote mi permetto di suggerire deve essere la nostra attuale cura e attenzione primaria regalamenti confessione eucaristia preghiera soprattutto il santo rosario oggi celebriamo la festa del primo grande devoto e innamorato di Maria che è San Giovanni ha avuto la grazia come dire di essere il destinatario diretto ecco certamente a nome di tutto quanto il genere umano ma donna ecco tuo figlio e figlio ecco tua madre Gesù l'ha detto San Giovanni 25 anni con Maria Santissima ci ha vissuto San Giovanni quindi ha certamente imparato molto molto bene che cos'è la vera devozione alla Madonna che tutti da lui cerchiamo di imparare sempre più e sempre meglio dunque questa sera volevo sinteticamente proporre anzitutto alcune considerazioni di San Tommaso da Quino sulla virtù teologale della speranza sono evidentemente sintetiche però importanti anzitutto la sua definizione di questa virtù molto interessante San Tommaso afferma ma nelle sezioni dove parla di questa virtù che sono nella seconda seconde le questioni 17 e 22 la definisce virtù infusa per mezzo della quale si tende attenzione mediante l'aiuto di Dio al bene futuro arduo e possibile della beatitudine arrivando gli atti umani al fine ultimo che è Dio attenzione vedete la tensione cioè la speranza ci proietta verso il paradiso l'abbiamo già visto la volta scorsa è un bene qui lo 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 focalizza anzitutto futuro noi puntiamo al futuro noi non siamo stati fatti per il pianeta terra attenzione noi non siamo stati fatti per il pianeta terra la nostra vita non è qua giù ci crediamo in questo cioè non è che soltanto ci ci crediamo viviamo questo noi non siamo stati fatti per qua giù credo di aver già detto nelle puntate precedenti avrete pazienza e pietà se purtroppo la tenda d'argilla che diventa sempre più flebile mi fa dimenticare non riesco ad essere perfettamente padrone di tutto quello che ho fatto che ho detto perché anche perché la mia attività come dire e la predicazione è abbastanza intensa abbastanza impegnativa quindi non ma non sempre il controllo quindi perdonerete qualche qualche ripetizione no credo di aver già detto la speranza ci fa vivere in cielo pur stando qui sulla terra non siamo stati fatti per la vita di qua giù una persona che vive fortemente la virtù della speranza anela alla vita eterna posso stare anche 150 anni qui se Dio vuole però e se ci sto ci sto semplicemente per fare la sua volontà per compiere la mia missione se lui ritiene che ho ancora qualcosa di buono da fare per la sua gloria per il bene della chiesa per l'umana società per la salvezza delle persone se lui questo ritiene possiamo starci pure un altri 150 anni sul pianeta terra speriamo un po' di meno però se avessimo già finito cioè ma magari no provate a pensare se ti dicessero c'è due giorni di vita tu che penseresti prova a pensarci chiunque tu sia che ascolti questa catechesi che pensi bene futuro il paradiso è un bene anche però arduo lo definisce San Tommaso è un bene arduo abbiamo già visto la volta scorsa non vanno tutti in paradiso non ci vanno tutti perché Dio il paradiso lo rende accessibile a tutti il nostro redentore Signore Gesù Cristo si è fatto uomo per riaprirci le porte del cielo certo ma come abbiamo visto già la volta scorsa Dio sottopone approva i suoi figli non dà i suoi beni se non a chi si dispone a riceverli oggi è la festa di San Giovanni ma come mai la Madonna cioè Gesù ha affidato la Madonna a San Giovanni 25 anni con Maria e non l'ha affidata a San Bartolomeo non me ne voglia San Bartolomeo che è uno dei dodici santo e martire pure lui no ma perché l'ha affidato a San Giovanni a motivo c'è perché San Giovanni era l'unico apostolo che tra virgolette meritava di vivere con Maria dico tra virgolette perché quando parliamo di meriti in teologia si distingue meriti del decondigno e meriti del decongo cioè in senso strettissimo noi davanti a Dio non meritiamo mai niente d'accordo perché che cosa vuoi meritare davanti a Dio in senso stretto tutto quello che noi possediamo lo abbiamo ricevuto ma in senso lato cioè posta certamente il primato della grazia di Dio e il fatto che anzitutto tutto il suo dono e i suoi misi di cordis su questo non si deve avere dubbi o si deve discutere però posto questo cioè quello che noi ci mettiamo e come noi custodiamo e come noi facciamo crescere la grazia di Dio e questo conta davanti a lui per cui il paradiso ci va chi osserva la parola di Dio chi osserva i comandamenti di Dio se non l'ha fatto quantomeno si pente chiede perdono prima di morire il paradiso è un bene arduo oltre che il futuro però ecco l'aggiunta che tempera era un bene possibile non è impossibile andare in paradiso è difficile come la vita cristiana padre Pio diceva sempre che la vita cristiana è bella però con il suo accento vagamente campana però è un pochino difficile lui diceva si aggiungeva un pochino difficile certo perché richiede tante cose però è bello allora l'oggetto quindi del formale proprio della speranza qual è? la beatitudine terra l'oggetto ultimo la beatitudine in questi tempi ripeto fino alla nausea dove c'è lo spauracchio perpetuo d'accordo della possibilità della morte corporale tutti siamo invitati a essere via la morte corporale è tutta questa grande tragedia per noi cristiani per noi figli di Dio è tutta è tutta questa grande tragedia è questa la grande tragedia per noi figli di Dio o è una grande tragedia quella che vivono purtroppo la maggioranza dei nostri fratelli e sorelle cioè che si arriva a questo appuntamento del tutto impreparati del tutto disattrezzati del tutto sprovveduti e rischiando quindi non la morte corporale dalla quale nullo uomo può scampare a voglia a far gesti apotropaici qui tra cent'anni c'è più nessuno di noi in questo modo in continuazione cent'anni esagero perché se stesse ascoltando questa catechesi un ventenne se dico tra cinquant'anni non ci stiamo più quello potrebbe dire uè a vecchiera parla per te no e non sarebbe manco tutti i torti la beatitudine eterna il cielo patria mia dice un canto popolare in onore della della madonna quando andiamo a letto la sera che pensiamo pensiamo come pensa qualcuno è viva manca un giorno di meno pur se dovessi campare altri cent'anni sicuramente manca un giorno di meno nell'attesa di andare a raggiungere il motivo per cui siamo stati creati cioè il motivo per cui noi siamo stati creati è godere il paradiso tutto quello che attraversiamo tutto quello che viviamo su questa terra e che il signore vuole per carità che passiamo per questa per questo passaggio ma è tutto funzionale è tutto finalizzato cioè quando una persona ha una grande virtù della speranza concorre tutto lì e ciò che aiuta a camminare verso il cielo io lo tengo ciò che ostacola io lo lascio è zavorra non mi interessa non so che farmene allora capite che la virtù teologale della speranza ferma Santo Ommaso esplicitamente partecipa della certezza della fede quando abbiamo parlato della fede attenzione quando abbiamo parlato della fede abbiamo detto chiaramente attenzione perché la fede non ammette dubbi quando è fede una fede che ha dubbi non è fede se vado a vedere il catechismo non lo dico io cioè ripeto e ribadisco la grande problematica del caso Galilei non è come ci vogliono far credere che la chiesa è antiscientifica che ha fatto una figura da vera cottara andando a condannare per cose vera uno scienziato non è così semplice il problema di Galileo era che Galileo diceva siccome è facilissimo ed è evidente dimostrare che 2 più 2 fa 4 d'accordo dimostrare una legge della fisica o comunque la scienza che ho creato è una scienza sperimentale quindi io te lo posso far vedere in laboratorio ti posso riprodurre quello che ti dico e tu non puoi dire niente perché lo vedi lo constati una verità di fede non ha mai questa caratteristica non ce la può avere per definizione perché altrimenti non sarebbe una verità di fede quindi si trova su un livello inferiore il grado di certezza che mi dà la scienza è superiore è quello che mi dà la fede guardate che secondo me la stragrande maggioranza degli esseri umani compresi i cattolici sono d'accordo con questa cosa perché sembra così ma non è così è proprio qui che casca l'ansino non è così cioè è più facile che 2 più 2 faccia 5 che non che Dio non sia trino ed è più sicuro che Dio è uno e trino e che Dio è l'unico vero Dio e che la Chiesa Cattolica è l'unica Chiesa fondata da Cristo anche ne so e che i sacramenti sono sette e che i novissimi sono quattro e che le virtuti e i locali sono tre tutto quello che noi sappiamo dalla fede più sicuro questo che non che 2 più 2 sono 4 questo è la fede divina e cattolica perché la fede divina e cattolica non si basa sull'incontrovertibilità razionale o empirica ma sul principio da cui le verità di fede provengono che è Dio non sbaglio non può ingannare non si ingannare allora così la speranza la speranza dice Santo Maso partecipa tra certezza della fede ma forse qualcuno dubita che esiste il paradiso la speranza ti porta già in paradiso è chiaro che non c'è non è argomento di discussione cioè non è argomento di discussione che la vita terrena è un passaggio un passaggio dove io l'unica cosa sensata che ho da fare è arrivare al bene arduo che è la benitudine e arrivarci carico di meriti tra virgolette nel senso detto prima perché più ci arrivo carico di meriti e più me lo godrò al paradiso perché il godimento del paradiso è proporzionale ai meriti insegna la Chiesa questo uno lo capisce pensando semplicemente se uno pensa che Padre Pio stia in paradiso in un grado di gloria uguale a un poveretto che si è salvato perché qualcuno ha pregato per lui perché ha fatto un atto di contrizione poco prima di morire se qualcuno pensa questo padronissimo insomma per carità il pensiero è sempre rispettabile per quanto bislacco possa apparire ma così non è così non è così non è perché Dio è giusto e la giustizia di Dio non consiste non tanto nel punire i cattivi ma consiste anche nel premiare i buoni in proporzione di quello che hanno meritato a chi ha sarà dato detto Gesù e sarà nell'abbondanza a chi non ha sarà tolto anche quello che crede di avere allora la speranza tutto ciò che cade nella speranza il paradiso le grazie necessarie cioè che Dio mi aiuta che Dio non mi può abbandonare questo significa non mi può abbandonare abbiamo visto la volta scorsa come la speranza si interseca con l'abbandono con la confidenza Dio non mi può abbandonare c'è un momento di prova c'è un momento difficile Dio non mi può abbandonare non mi può abbandonare e non mi abbandona non mi lascia solo non mi mancherà mai niente di ciò che è necessario alla vita della mia anima e anche alla vita del corpo anche alla vita del corpo c'è il Vangelo guardate gli uccelli del cielo non seminano e non mietono eppure il Padre vostro li alimenta e i gigli del campo non filano non tessano ma solo non vestiva come uno di loro e Gesù dice se Dio fa così con gli animali e con i fiori non farà più con voi gente di poca fede come la fede e la speranza si intrecciano si intersecano noi le distinguiamo perché dobbiamo distinguerle ma poi nell'esercizio pratico queste tre virtù ti erogali lo vedremo anche con la carità sono un po' come la Santissima Trinità mi si perdona il paragonardito ma non sono io a farlo cioè la Santissima Trinità le persone sono distinte perché il Padre è il Padre il Figlio è il Figlio lo Spirito Santo lo Spirito Santo però sono uno e tutte le azioni che fanno le fanno sempre tutte congiuntamente insieme quindi quando c'è una fede vera una fede vera è sempre accompagnata dalla speranza e animata dalla carità quando la speranza è autentica si fonda sempre sulla fede e sfocia nella carità quando la carità è vera la carità non può esserci non può sussisterci proprio come vedremo se non ha le ali della fede e della speranza su cui poggio pur essendo la più grande di tutte e tre quindi la speranza partecipa alla giustezza della fede Dio Dio non mi darà le grazie sufficienti per fare quello che devo fare per adempiere la mia missione io devo pensare forse che Dio non mi darà le grazie sufficienti per svolgere bene il ministero che mi ha affidato sono io che corro il pericolo di sprecarle e di combinare guai in continuazione ma da parte sua non c'è assolutamente nessun dubbio capite quanto fa campare bene la speranza quanto è importante quando una persona è radicata nella speranza non ha bisogno di appunto cercare incoraggiamenti conforti umani come dire appigli umani quando uno non sa che santo votarsi che gli manca la terra sotto i piedi non occorre c'è la speranza e la speranza ci rende capaci di infondere coraggio di infondere fiducia di infondere consolazione nel prossimo e ci libera dalla schiavitù di andarla a cercare lemosinandola in giro a destra e a manca la speranza è veramente una virtù che rende fortissimi stabili solidi allora San Tommaso aggiunge che questa virtù causa nell'anima il fatto che chi la possiede si infervora ad amare Dio e ad osservarne i comandamenti quindi quando il nostro amore diventa fervoroso e anche il nostro zelo per l'osservanza dei comandamenti diventa solido ci stiamo muovendo sotto l'aria della speranza e aggiunge anche che la speranza fa aderire a Dio aderire in quanto principio della perfetta bontà aderire aderire è il contrario dell'essere distaccati non può aderire stare con Lui allora San Tommaso aggiunge ancora c'è un dono dello spirito che afferisce alla virtù teologale della speranza e sapete qual è? il santo timore di Dio il santo timore di Dio dice San Tommaso e con esso la Chiesa in realtà si distingue in due specie c'è un timore che non è proprio è santo in senso meno forte il timore servile cioè si ha di Dio come dire un senso di riverenza e di soggezione che può sfociare rasentare anche un po' di paura perché si teme la giustizia di Dio la pena che Dio commina dinanzi a chi opera il male invece c'è il timore filiale quello mosso completamente e solo dall'amore che teme di offendere Dio quindi di dispiacere a Dio e lo si riconosce da due atti la riverenza verso Dio la riverenza verso Dio le persone che hanno la speranza hanno una grandissima riverenza verso Dio e si vede la differenza sapete da cosa si vede come una persona prega come tratta le cose sante se è un prete come celebra la messa se è un laico come partecipa alla messa intanto che tiene una la riverenza verso Dio e al tempo stesso il timore o anche la paura o anche il terrore di separarsi da Lui se noi siamo cristiani dovessero dire di che cosa hai paura di nulla tranne che di separarmi da Dio di questo sì tanta di cosa hai paura di nulla tranne che di separarmi da Dio che Dio mi custodisca che Dio mi protegga che Dio non lo permetta la bellissima preghiera di Sant'Ignazio quella che si usa l'ingraziamento della Santa Comunione non permettere che io mi separi da te questa è la grande paura l'unica paura l'unica paura della morte nessuna paura della morte paura della sofferenza nessuna paura certamente nessuno di noi è come dire è come dire si diverte nel soffrire ma se Dio questo ci chiede ma se adesso è il problema paura della persecuzione paura della delisione oggi per essere cristiani bisogna avere il coraggio di andare tanto controcorrente eh bisogna avere il coraggio di essere minoranza 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 e di essere minoranza sempre più sparuta sempre più minuta e con questo problemi nessun problema il santo di muore di Dio dice la saga scrittura è anche il principio della sapienza bellissima questa cosa la sapienza l'abbiamo già accennata credo trattando delle virtù intellettuali è una virtù meravigliosa perché la sapienza ci consente di giudicare e guidare la nostra vita secondo Dio quando Gesù dice a Pietro tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini la sapienza la sapienza figlia remota della speranza passando attraverso il dono del timore che è il principio della sapienza attenzione che gli uomini generalmente non hanno il santo timore di Dio hanno il timore del mondo e qui dobbiamo fare l'esame di coscienza il timore del mondo sapete qual è? è quello che fa allontanare da Dio e dalla sua volontà per paura di certi mali quali? la delisione la non accettazione sociale la perdita dei beni la perdita dei soldi la perdita delle proprie posizioni la perdita della stima la perdita di posizioni di prestigio di chi abbiamo noi timore tra virgolette abbiamo il santo timore di Dio o abbiamo il timore del mondo quando uno c'è il santo timore di Dio se deve fare una cosa e c'è tutto il mondo contro tutto il mondo contro ma è interiormente certo quella cosa Dio la vuole non ha nessunissimo dubbio su quello che deve fare nessuno ed è pronto ad assumersene tutte le conseguenze tutte e nessuno escluso ma se questo non c'è è un problema San Tommaso aggiunge ancora che la virtù teologale della speranza ha una beatitudine particolarmente confacente con essa qual è tra le otto beatitudini beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli la povertà di spirito è particolarmente affine al santo timore di Dio perché la povertà di spirito è fondamentalmente l'umiltà e l'umiltà attenzione nella sacra scrittura non è è semplicemente stare al proprio posto quando la Madonna nel Magnifico dice ha guardato l'umiltà della sua serva la tapeinosis io sto al mio posto e qual è il mio posto io sono un povero uomo io e te pure lo sei lo siamo tutti povero uomo povero uomo tutto ciò che noi siamo di buono tutto ciò che noi forse abbiamo di buono forse facciamo di buono se lo facciamo non viene da noi viene da Dio viene da noi il mare di miseria che abbiamo il mare di imperfezioni che abbiamo il mare di difetti che abbiamo quello viene da noi e quindi ci possiamo fare grandi non soltanto esteriormente ma anche interiormente Dio dice che ama l'umile di cuore non è umile che si umilia davanti alle persone che dice ah io non valgo niente io sono un sono un poveraccio oppure come diceva Santa Caterina sono nulla più il peccato va bene d'accordo tutto tutto vero solo che Dio guarda se tu questo lo pensi veramente Dio guarda il cuore lo pensi veramente quando stai in preghiera davanti a Lui ti umili davanti a Lui gliele dici queste cose gliele dici tu solo sei santo tu solo il Signore la Madonna credo a me giugorie o da qualche posto del genere ha detto che gloria è la sua preghiera preferita a te credo forza 100% non può essere nient'altro gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà qui anche su di buona volontà ho fatto una media qualche giorno fa la buona volontà ce l'hanno come dice il testo greco quelli che pensano usando il cervello bellissimo ti credo gloria a Dio non gloria a me ti odiamo ti benediciamo ti adoriamo ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa il gloria è proprio l'imno che cantano quelli che hanno la virtù della speranza ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa la gloria a Dio Signore Dio Re del Cielo Dio Padre Onnipotente Signore Signore Chios Dio Teos Re del Cielo Onnipotente sono tutte e tante cose che c'ha Lui io non sono nel Padre Eterno nel Signore se non di nulla non sono Re del Cielo né di niente e non sono onnipotente d'accordo Signore Figlio di Genito Gesù Cristo Agnello di Dio Figlio del Padre Tu ritogli i peccati del mondo e abbi pietà di me che ho bisogno di Te come mio salvatore non mi salvo da solo non posso fare le cose da solo Tu che togli i peccati del mondo ascolta la mia supplica che te la rivolgo prego ti prego in continuazione perché ho bisogno di Te non faccio una vita escludendoti combattendoti o semplicemente considerandoti come una presenza inutile no no Tu che siedi alla destra del Padre per conquista Gesù Cristo siete alla destra del Padre perché San Paolo spiega ah ma Gesù Cristo siete alla destra del Padre perché è Dio no no figlioli miei cari no questa non è desiglia questa qui Gesù Cristo siete alla destra del Padre perché come uomo ha meritato dice San Paolo quel nome che è al di sopra di ogni altro nome per questo Dio l'ha esaltato e l'ha risuscitato perché perché pur essendo di natura divina si è umiliato si è annientato si è fatto schiavo pur rimanendo Dio ma ci rendiamo conto che significa ubbidendo fino alla morte alla morte di croce che più di quello cioè più in basso di dove è stato non poteva andare per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che ha di sopra di ogni altro nome Gesù Cristo è il primo a dimostrare nella sua stessa persona che in paradiso si va per conquista e che per andare in alto quando gli chiedono noi vogliamo sedere uno alla tua destra e uno alla tua sinistra dice ragazzi state tranquilli cioè mi pare un'impresa facile siete capaci voi di fare quello che devo fare io siete capaci di bere il calice che io bevo ma che tu ti pensi che vai alla mia destra e alla mia sinistra così cioè semplicemente perché c'è avuto la sorte di conoscermi e di essere tra i dodici ma che stai scherzando stai scherzando per stare vicino al Signore devi essere capace di fare quello che ha fatto lui molto vicino al Signore ecco perché dico Padre Pio che è stato abbastanza capace sta molto vicino al Signore certamente lui è stato un fuoriclasse anche tra i figli di Dio è come negli sport Messi è un fuoriclasse per chi ama il pallone Federer per chi ama come me un tempo il tennis è un fuoriclasse Ghiokovic è un fuoriclasse se vogliamo parlare e tra i santi ci stanno i fuoriclasse ci stanno i fuoriclasse finiamo con gloria tu sono l'altissimo Gesù Cristo con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre Amen il gloria il canto di quelli che hanno la speranza di quelli che sono poveri di spirito di essi è il regno dei cieli dice Gesù ecco perché cioè chi ci va in paradiso chi ha la speranza ci va in paradiso chi lo desidera con tutto il cuore chi ci investe chi ci investe sul paradiso bisogna investire figlioli miei cari investire scusate se una persona che ne so si fa due digiuni a settimana ma cosa sta facendo tra le altre cose sta investendo nel paradiso perché quando uno non mangia ragazzi guardate che c'ha fame c'ha fame e perché non mangio perché io rinuncio perché io sono certissimo in questo gesto qui questo signore lo accoglie e me ne ricompenserà oltre a tutte le altre modificazioni io rinuncio a qualche cosa che c'è adesso e qui perché io credo a qualcos'altro che non c'è adesso che c'è di là chiaro è per rinunciare al peccato ma come si fa ah ma oggi possono arrivare due giovanotti casti al matrimonio ma sicuramente sì sicuramente sì e non è manco troppo difficile non è manco troppo difficile perché se tu ci credi che chi arriva casto al matrimonio e questo ci puoi mettere la firma sopra c'ha un autotreno di grazie preparate per quel matrimonio che riceve prima che significa un autotreno una cofana che non sa dove mettersene e chi non ci arriva casto al matrimonio mi dispiace non si sente offesa a nessuno ma quell'autotreno di grazie non ce l'ha non ce le ha questo se lo metta bene in test c'è stato un aneddoto di padre e pio che non lo posso raccontare perché è estremo che dimostra quello che sto dicendo e non solo c'è un autotreno di grazie per il matrimonio ma ci avrai una corona di gloria in paradiso noi non possiamo non pensarci a queste cose è chiaro che noi non siamo mercenari noi non è che facciamo le cose per presentare davanti a Dio ho fatto questo adesso dammi la ricompensa ai santi non gli importa niente della ricompensa ma sanno che c'è però e ci credono fermissimamente e investono cioè i cristiani sono dei grandi investitori cioè noi io quando studiavo economia politica noi siamo tutti quanti investitori e i cristiani sono tutti quanti come dire informati alle leggi di macroeconomia sono tutti quanti sul lungo periodo sempre noi siamo sempre investitori sul lungo periodo perché il paradiso è un investimento sempre a lungo periodo io faccio un'elemosina consistente con cospicua e perché la faccio? perché il nostro signore facendo con l'elemosina può stare tranquillo che non ti manca niente in questo mondo e quella l'elemosina te la ricompensa in cielo te la ricompensa in cielo se la tieni nascosta capiamo che cos'è la virtù della speranza è una delle virtù oggi proprio che zero assoluto quasi non si vede da nessuna parte la gente non ce l'ha e non ce l'ha perché l'abbiamo già visto la speranza si alimenta dall'ubus della 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 fede se la fede la speranza sicuramente muore non c'è proprio cioè è proprio è ovvio che sia così quindi lui mi resta proprio posto davanti a Dio e se fosse anche povero quindi benissimo la vicenda di San Francesco d'Assisi l'ho detto infinite volte la povertà eroica estrema che lui ha vissuto così come che è capace di fidarsi della divina provvidenza che è capace di fidarsi della divina provvidenza che esiste esiste la divina provvidenza se tu stai nell'impossibilità soggettiva di poter provvedere al necessario per te o per il prossimo ma esiste la divina provvidenza o no o tu sei abbandonato a te stesso devi per forza arrabbattarti inventarti qualcosa al limite bisogna andare a rubare perché se non c'è necessario lo facciamo esiste la provvidenza o non esiste la povertà è estrema perché tutti quanti i francescani qualcuno è morto martire qualcuno è morto abbastanza giovane perché ha trattato loro trattavano il corpo cioè le penitenze che faceva insomma un miracolo che San Francesco è arrivato a 45 anni un miracolo d'accordo? ma non è morto di fame non è morto di fame e San Francesco da quando si è spogliato davanti al padre non soltanto San Francesco non ha più voluto toccare con mano nemmeno una moneta non le toccava chiaro? non sto dicendo che tutti devono fare così ma questi fari che il nostro Signore ha acceso nella Chiesa sono la dimostrazione sono l'attestazione e anche la fonte della nostra vergogna perché la provvidenza esiste sapete a me la sacerdote quanta gente mi chiama mi contatta mi chiede che faccio in questa situazione che non faccio in questa cosa a destra a sinistra allora la risposta è tu ce l'hai la fede tu ce l'hai la speranza perché se c'è la fede c'è la speranza ti può orientare in un certo modo è chiaro che se non c'è la fede non c'è la speranza non ti può orientare in un certo modo fino a che punto uno è disposto a fidarsi di Dio fino a che punto quanto siamo disposti a investire guardate che i cristiani sono investitori sono investitori folli investono tutto tutto sul cielo e non restano delusi ma sono investitori folli abbiamo già visto la volta scorsa accennato ai vizi ai peccati gravi della disperazione della presunzione peccati formalmente diretti contro la speranza che diventano peccati contro lo spirito santo la disperazione che disprezza la misericordia di Dio il peccato di Giuda il peccato di Caino ma anche la presunzione che disprezza la giustizia di Dio in paradiso non si entra senza meriti bene questa è un po' la sintesi di quello che adesso l'ho messo in forma discorsiva non ho voluto fare certamente una trattazione come dire scolastica perché siamo in un contesto catechetico quindi diventa poi oltremodo pesante volevo concludere leggendo alcuni passaggi molto belli a mio avviso ed edificanti del catechismo della chiesa cattolica circa la virtù della speranza uno mi pare che l'abbiamo anche già letto sì andiamo a vedere un attimo il il 1821 noi possiamo sperare la gloria del cielo promessa da Dio a coloro che lo amano e fanno la sua volontà capiamo noi possiamo sperare catechismo non lo dico io la gloria del cielo promessa da Dio a chi però a coloro che lo amano e a coloro che fanno la sua volontà ergo chi non ama Dio non fa la sua volontà c'ha ben poco di cui sperare evidente questo qui no? in ogni circostanza ognuno deve sperare con la grazia di Dio di perseverare fino alla fine e ottenere la gioia del cielo credo di aver accennato anche la volta scorsa la perseveranza finale è una grazia da impetrare perché io oggi sto qui spero di conservare qualche cenno almeno di virtù teologali spero e domani e dopo domani resterò sempre federe fino alla morte noi possiamo sapere interrogando il nostro cuore cosa c'è oggi nel nostro cuore io posso posso dire in coscienza certamente davanti a Dio signore mio per quanto stai a me a me sembra che oggi io sto con te voglio stare con te voglio continuare a stare con te ma nessuno ti assicura che domani sarà così nessuno ti assicura che tu non ti possa prendere una bella tentazione di quelle di prima categoria e cadi oppure cadere in un gigantesco inganno del diavolo perché il diavolo non fa solo le tentazioni magari il diavolo inganna ti tende le trappole ti tende le tranelli e a volte se si cade in qualcuna di quelle trappole ci si fa male assai il signore non permette che i suoi figli cadano nelle sue mani ma nel nostro cuore ci deve essere la volontà di amarlo e di fare la sua volontà allora possiamo stare tranquilli e di custodire la vita della grazia come già detto la preghiera e i sacramenti quindi in ogni circostanza ognuno deve sperare con la grazia di Dio di perseverare fino alla fine di ottenere la gioia del cielo attenzione alla gioia del cielo attenzione a quello che dice quale eterna ricompensa di Dio per le buone opere compiute con la grazia di Cristo quando sentite qualcuno dire che in paradiso dite no 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 c'è il catechismo della chiesa cattolica non il catechismo dell'esempio decimo che abbiamo visto l'olta scorsa perché c'è qualcuno che contesta il catechismo dell'esempio decimo come se non fosse più vero allora questo è il catechismo della chiesa cattolica l'ultimo approvato quello vigente attualmente riformulato tutti i concetti vaticano secondi che te pare sono testuali parole 1821 ricompensa di Dio per le buone opere compiute con la grazia di Cristo non ci si va in paradiso senza le buone opere compiute con la grazia di Cristo e conclude questo bellissimo numero 1821 è da incorniciare è la frase di un grande scrittore ecclesiastico spera anima mia spera tu non conosci il giorno nell'ora veglia premurosamente tutto passa in un soffio sebbene la tua impazienza possa rendere incerto ciò che è certo è lungo un tempo molto breve pensa che quanto più lotterai tanto più proverai l'amore che hai per il tuo Dio quanto più lotterai tanto più proverai l'amore che hai per il tuo Dio chi ha la speranza lotta la buona battaglia ovviamente ma lotta lotta perché non c'è paura non si lascia a intimorire se qualche cosa se si frappone qualche ostacolo tra me e il paradiso io combatto non sono un imbelle quanto più lotterai tanto più proverai l'amore che avere il tuo Dio e tanto più un giorno potrai con il tuo diletto in una felicità di non essersi che in me potranno avere fine c'è stato qualche santo non mi ricordo chi che ha detto questa cosa verissima e ci faccia ripetere ci congeliamo questa considerazione se i santi potessero avere un desiderio i beati quelli che stavano già in paradiso non avevano desideri inespressi perché il nostro signore in paradiso se li soddisfa tutti ma se potesse per ipotesi starci un desiderio inespresso che si potesse esprimere e che li consumerebbe sapete qual è tornare in terra per fare di più per il signore più opere più preghiere più sacrifici più quello che te pare l'unico desiderio che i beati se potessero avere un desiderio avrebbero siccome noi siamo ancora qui cerchiamo di dare il meglio di noi stessi perché in paradiso possiamo stare in alto in alto ma non per ragioni gerarchiche diceva so in alto quindi io so un pezzo grosso del paradiso mazza o mica so come l'ultimo che si è salvato per rotto della cuffia non è questo il motivo è che il godimento sarà sarà maggiore c'è qualcuno forse che non anela a grandi godimenti a grande felicità noi siamo stati creati per questo solo che i grandi godimenti e la grande felicità non stanno qui né tantomeno coincidono con quelle porcate scusatemi il termine insomma quelle schifezze che vengono sbandierate come lucciole fallaci e ingannevoli dal mondo i santi ci sputano sopra quelle cose proprio ci sputano sopra le disprezzano perché c'hanno altro a cui pensare c'hanno altro a cui venire c'hanno cose molto più raffinate molto più belle molto più goderecce perdonatemi il termine dei miserabili squallidi molte volte impuri schifosi altre volte piaceri terreni non è roba da figli di Dio non è roba da figli di Dio bene amici miei buona speranza a tutti e rimaniamo sempre come dice San Paolo lieti nella speranza e forti nella tribolazione e come sempre per chi vuole e chi ci sarà ci diamo appuntamento alla prossima puntata con la mia benedizione su ciascuno di voi a presto